Ciao, benvenuti in questo video dove presenteremo la nostra nuova linea di Acrygel Fata Nail, Acrygel Line, così composta da Cover Pinky, che ha questa colorazione naturale, poi spiegheremo le caratteristiche e faremo vedere la densità. Cover Moo, che ha questa colorazione particolare, adatto anche per pelli un po' più scure. Abbiamo il Creal Glass, che è trasparente, effetto vitro. E abbiamo il Milky White, che è un bianco lattiginoso ma coprente. Insieme, ovviamente, abbiamo Acrygel Solution per poterlo modellare. Allora, partiamo con le caratteristiche. Imbarattolo, morbido, non fila. Eccolo qua. Non porta filamenti, quindi si spezza subito. Autolivellante. E con poco strato di dispersione. Questo fa sì che riusciamo a modellarlo non dovendo bagnare di continuo il pennello. Vi faccio vedere anche questa colorazione qui. Ok. Ecco, riusciamo a staccarlo tranquillamente. Sembra più una mousse che un Acrygel, perché la consistenza è molto morbida. Il bianco, la sua particolarità è proprio quella di essere non un bianco gesso, ma un bianco latte molto delicato, ma allo stesso tempo coprente. Quindi, da poterlo utilizzare sia come French, sia per un baby boomer, e sia da solo per una copertura. Quindi, utilizzabile per più trattamenti. Come possiamo vedere, le colorazioni sono queste sulle unghie. Anche questo è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, con il cover pinky. Questo. Anche la farfalla è stata fatta con l'Acrygel, proprio per la sua caratteristica morbida e autolivellante. Abbiamo provato a fare i baby boomer. Vengono benissimi con entrambe le colorazioni. Ha una consistenza diversa dai soliti Agrygel, anche perché essendo autolivellante, la superficie riesce ad uniformarsi. Quindi, si potrebbe optare anche per un trattamento di copertura senza limatura. Questo è il suo effetto opaco, quindi superficie assolutamente uniforme. e grazie alla sua consistenza forma poco quelle piccole bollicine, dove nella limatura noi vediamo sempre che potrebbe succedere con l'Acrygel dei piccolini fuori in superficie. Infatti, come potete vedere, non sono presenti, perché essendo autolivellante si uniforma da solo. Adesso ve lo faccio vedere sulla tip per vedere la morbidezza. ecco qua. Il fatto che non fila ci permette tranquillamente di poterlo lavorare anche su piccole superfici, piccoli ritocchi, e volendo si potrebbe anche sfumare. La consistenza è questa, molto morbida. avendo poco strato di dispersione non permette di bagnare il pennello di continuo e quindi poterlo anche, come state vedendo, poterlo anche sfumare tranquillamente. Una caratteristica che non è presente in molti Acrygel, perché bisogna picchiettare. Con questo possiamo sfumarlo, creare delle ottime sfumature e delle ottime coperture anche senza bisogno di limatura. Adesso vediamo la colorazione anche del cover moon. Allora, Allora, un'altra cosa. Allora, un'altra cosa. Allora, un'altra cosa. coprentissimo anche questo morbido sfumabile e autolivellante quindi facilissimo come potete vedere io sto bagnando il pennello pochissimo anzi in una copertura lo bagno giusto un paio di volte asciugo il pennello perché non c'è bisogno di lavorarlo con un pennello super bagnato e vado addirittura a lisciare la superficie perché avendo poco strato di dispersione anche se il pennello a volte attacca un po riusciamo a non spostare troppo il prodotto come succede spesso con gli agrigelli un po più densi questo è il cover move adesso vediamo il bianco il bianco ha una colorazione bellissima perché è lattiginoso ma è coprente quindi adatto sia per il french che per il baby boomer che da solo è spettacolare e voilà adesso vi faccio vedere come si autolivella allora prendiamo un pezzettino di bianco lo mettiamo su questa tipo già fatta giusto un po lo vado senza nemmeno bagnare pennello a stendere in questo modo per cercare di dargli un poco l'idea di qualche sulco per farvi vedere come poi si autolivella e avete visto che grazie alla morbidezza anche se non ho bagnato la spatolina siamo riusciti comunque a siamo riusciti comunque a modellare loro stesso a muover loro stesso perché 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 ha poco strato di dispersione ed è morbido e oltretutto non ha quella filatura che non permette nemmeno di toccarlo con il pennello se non è bagnato ecco ecco che si sta autolivellando assomiglia proprio ad un gel con la densità morbida di un gel altro autolivellante ma comunque non si sposta si autolivella semplicemente lo andiamo a spostare un pochettino in più per farvi vedere come si muove come riesce ad autolivellarsi sulle unghie lo possiamo lo rimango qui ecco qua sulle unghie lo possiamo vedere questo è il cover pinky abbiamo fatto sia l'allungamento che il muretto questo abbiamo fatto il muretto con il french bianco quindi adattissimo anche solo per french questo abbiamo utilizzato il trasparente e questi due il cover mo sia con un french in superficie bianco e sia con il muretto e sfumato con un po gli stessi colori tutta la linea la potete trovare sul nostro shop online www.fataneil.it e per qualsiasi informazione ci potete contattare in privato